Salve ragazzi, oggi vedremo come realizzare un oggetto, come a tutti, insomma una sedia, sfruttando le superfici. Però per creare questa superficie utilizzeremo le T-Spline. Dopodiché vedremo come, a partire dalla superficie fatta con una T-Spline, realizzeremo il volume dell'oggetto, con un semplice inspessimento, e infine poi aggiungeremo qualche ulteriore dettaglio alla sedia, dandovi qualche trucchetto, qualche tip, su come ottenere delle figure un po' apparentemente complicate da realizzare, a partire dalla superficie T-Spline, ma vi farò vedere in realtà con degli stratagemmi veramente molto efficaci. Bene, andiamo a vedere subito quindi come realizzare questa sedia. Io come modello di sedia ho scelto quello di tipo una sedia universitaria, una sedia scolastica, perché è semplice, insomma, da realizzare. Per farlo partiamo da un piano, andiamo a creare grossolanamente, ma davvero grossolanamente, il profilo dello schienale e la seduta. Va bene? Vedete, io ho fatto un segmento, arco segmento, ma in realtà potreste tranquillamente partire da una Spline, è del tutto indifferente, anche perché, come vi accennavo prima, andremo a realizzare una superficie T-Spline, quindi, tutto sommato, non c'è bisogno di un rigore geometrico molto forte, dopo andremo a modificare tutto. Perfetto, quindi, fatto questo piccolo profilo, andiamo nell'ambiente Create Form, quindi di realizzare T-Spline, e andiamo a creare un'estrusione di questo profilo. Ok? Lo vogliamo fare naturalmente simmetrico, quindi qui mettiamo Symmetric, e andiamo a tirare per dare, diciamo, una lunghezza che possa essere quella che ci può fare più comodo. Bene? Vedete, nel momento in cui lasciamo, come Spacing Curvature, il numero di facce è 8 e tutto predefinito, insomma, vedete che cosa fa Fusion? Aggiunge un numero di lati più alto lì dove c'è una curvatura più pronunciata, quindi l'idea di partire da un segmento curva-segmento in realtà serviva a questo, serviva a fare in modo che in questo lato qui, dove non mi aspetto che ci siano delle grosse curvature, ci siano meno facce, mentre qui nel raccordo, chiamiamolo così, insomma, in questo angolo che collega la seduta con lo schienale, ovviamente c'è bisogno di maggiori numero di facce. In realtà, io mi ridurrò ancora, vedete, metto 4 addirittura, perché non voglio effettivamente andare a creare una curva troppo precisa, anzi, io vorrei creare una curva quanto più sinuosa possibile, quindi dobbiamo dare meno vincoli possibili al nostro software Fusion, quindi ecco che utilizzare meno facce è più indicato. Dobbiamo aggiungere inoltre questa opzione, Embed Symmetry, Che cosa fa questa opzione? Vedete, purtroppo è poco felice la scelta grafica, però vedete che qui questo lato diventa verde, quindi vuol dire che tra i due lati, tra i due similati di questo oggetto c'è un vincolo di simmetria, ok? Adesso lo andiamo a vedere subito. Per verificare la simmetria di cui vi parlavo, andremo a fare adesso le modifiche al nostro oggetto, vedete che per esempio se prendo questo vertice e lo sposto, vedete che in modo del tutto simmetrico si sposta anche il suo omologo, allo stesso modo, per esempio, qui, ok? Ok, proviamo a dare quindi adesso una forma, come dire, un po' più tipica di questa forma, diciamo che noi vogliamo che lo schienale accolga la schiena di chi ci si siede e allo stesso modo anche la seduta, giusto? Vediamo come possiamo ottenere questo incavo. In realtà è molto semplice perché basterà, disattiviamo un attimo lo sketch, altrimenti selezioniamo sempre lo sketch, basterà per esempio traslare questo spigolo verso dietro. Bene, qui io vi consiglio di utilizzare come spazio di riferimento per le coordinate quello lì, questo qui globale, il world space, perché volendo utilizzare anche questo qui della selection, capite bene che ogni volta che andate a spostare qualcosa, per esempio se andiamo a ruotare questo pezzo, vedete, se andiamo a riselezionare quel pezzo, vedete, cambia il sistema di riferimento, perché ogni volta si aggiorna in funzione di come è orientato il pezzo che abbiamo selezionato. Invece con il world space l'orientamento rimane sempre lo stesso. Questo è un consiglio che vi do, poi ognuno lavora come si trova meglio. Vedete, basterà semplicemente spostare un po' questo verso dietro e già abbiamo creato, vedete, questo effetto della schiena, dello schienale che raccoglie la schiena. Dopodiché magari ci rendiamo conto che forse è un po' troppo inclinato questo schienale, bene, allora selezioniamo, vedete, ho selezionato con control tutti e due questi lati e proviamo a ruotarli, vedete, per raddrizzare lo schienale lo spostiamo un po' più avanti, per esempio. Possiamo dare anche un aspetto, vedete, in questo modo, dare un aspetto un po' più sinuoso alla nostra sedia. Perfetto, ovviamente facciamo lo stesso anche per la seduta. Io per la seduta qui, anziché spostare direttamente in questo modo, vedete che non mi piace, provo a fare una rotazione di questo tipo e poi sposto. In questo modo, vedete, avrò una seduta che gradualmente aumenta di profondità, ok, a mano a mano che mi spingo verso l'esterno. Bene, diciamo che fin qui tutto bene, facciamo un po' di rastremazione alla nostra parte dello schienale, ovvero voglio che la seduta sia un po' più larga rispetto allo schienale. Come lo facciamo? Facciamo un doppio clic su uno dei bordi in modo tale da selezionare tutto, vedete, tutto questo lembo, tutto questo bordo e guardando di fronte alla sedia giriamo semplicemente in questo modo. Vedete, abbiamo creato questo effetto e potrebbe essere interessante andare ad intervenire su questi punti di controllo. Ok, per far apparire i punti di controllo, questi qui rossi, dovete selezionare qui Selection Fitted Vertex. Per capirci, i punti di controllo sono esattamente l'estensione nello spazio di quello che sono i punti di controllo nel piano, quando facciamo una spline con i punti di controllo. Quindi dovete immaginare che per ogni punto, siccome in un punto concorrono più spline, esisteranno tanti punti di controllo, quante sono le spline che entrano in quel vertice, in quel punto. Va bene? Perché, dicevo, potrebbe essere interessante? Perché magari, per esempio, possiamo intervenire su questo punto di controllo, vedete? Questo qui che appare quando selezioniamo questo vertice, per poter dare la curvatura che più ci aggrada, insomma, alla parte della seduta. Anche qui magari, vedete, qui c'è un punto di controllo. Magari qua sotto si vede meglio. Eccolo qua. Che ci permette di andare a giocare, insomma, su quello che è la curvatura, vedete? In quella parte iniziale lì. Bene? Vedete, abbiamo fatto veramente in pochissimi passaggi una sedia fatta con, insomma, con un minimo di senso estetico. Guardate, forse mi sono reso conto che è un po' troppo profonda la seduta. Bene? E' molto semplice in realtà accorciarla. Vedete? Sempre con Edge seleziono questo lembo e lo tiro dietro in questo modo. Quindi riusciamo ad aggiustarlo in questo modo, molto velocemente. Perfetto. Diciamo che adesso la superficie che genererà il mio corpo principale della sedia è pronta. Ok? Dobbiamo andare, ovviamente, a creare uno spessore. Quindi, usciamo da questa forma. Vedete che automaticamente Fusion riconosce che questa forma che abbiamo appena creata è un tipo superficie, che vedete qui appare il simbolo di superficie. Quindi andiamo nell'ambiente Surface e facciamo Create Thicken per dare spessore a questa sedia. Bene, possiamo darlo, ovviamente, verso l'interno, verso l'esterno, come più ci piace. Insomma, a me piace andarlo a definire verso l'esterno. Ovviamente le dimensioni non le sto proprio guardando perché stiamo ragionando in modo del tutto astratto, però, ovviamente, se volete, potete dare delle dimensioni reali a questa sedia. Perfetto. Diciamo che più o meno così mi piace. Manca però un dettaglino che mi piacerebbe dare che è quello di smussare questi spigoli che, ovviamente, sono un po' pericolosi anche, no? Per chi ci si siede. Quindi, andiamo in Solid, Fillet, andiamo a selezionare, quindi, questi quattro... questi quattro spigolini. Perfetto. E andiamo a giocare sul valore fino a quando non otteniamo qualcosa che ci piace. Ok? Diciamo che così potrebbe andare bene. Ovviamente, sapete che potete dare dei valori differenti per lo smusso, per la parte superiore o la parte inferiore, insomma, potete creare tante selection. Perfetto. Diciamo che, quindi, la parte principale della sedia è fatta, bisognerebbe creare i piedi, ok? Perché, ovviamente, così non si regge. Io, per creare i piedi, mi sono immaginato una struttura che, a pianta più o meno ovale, si è saldata qui sotto con delle viti e dalla quale poi escono dei piedi che poggiano a terra. Innanzitutto, la prima cosa che voglio fare, però, è andare a spostare questa sedia in alto in una posizione che sia più o meno quella rappresentativa finale della sedia appoggiata a terra. Quindi, immaginate che quest'asse X sia il terreno, insomma, dove poggerà la sedia, in modo tale che sarà poi un vincolo per i piedi che stiamo andando a creare. Ok? E magari spostiamo anche la seduta in modo tale che il centro coincida con l'asse Z. Questa operazione non è strettamente necessaria, però ve la consiglio per avere una sorta di, come dire, riferimento comodo per poi poter lavorare successivamente. Adesso, sapendo che questo centro è esattamente lì dove vorrei andare ad appoggiare il mio supporto, mi avvarrò, ovviamente, di questa posizione. Ok? Perfetto. Quindi andiamo a creare uno sketch. Guardate, lo creo proprio su questo piano qui, il piano questo qua, XY. E andiamo a fare, come vi dicevo, mi metto un attimo dall'altro lato perché mi fa più comodo. Ok. Andiamo a creare, per esempio, un'ellisse. Ovviamente questa è una mia idea, poi ognuno si può sbizzarrire a fare quello che più ritiene opportuno. Ok. Più o meno così. Mi può piacere. E vediamo con queste ellisse come andare a creare una struttura di supporto che avvolga questa sedia, ok, senza intersecarla e creando uno spessore. Immaginate che questa sia una placca di metallo che segue perfettamente il profilo della sedia. Ovviamente questo è un profilo molto particolare, insomma, abbiamo creato, si può quasi dire, a mano libera. Ah, vedete qui? C'è questa curva dovuta a questo spigolo che non mi piace. Perfetto. Lo andiamo ad aggiustare. Quindi torno qui sul form. Vedete, adesso sto modificando. Andiamo a abilitare form. Eccolo qua. Non mi ero reso conto che questo vertice qui fa una concavità un po' strana, un po' bislacca. quindi vado ad aggiustare selezionando questo vertice. Ok. È un po' anche il punto di controllo, è un problema che è un po' troppo. Mi sa che qui è apparso uno spigolo. Vediamo, è vero. Per togliere gli spigoli, se dovessero esserci, dovete utilizzare anche l'is. Sì, in effetti lì c'era uno spigolo. Non ce ne avevamo resi conto. Va bene. Si era creato uno spigolo quando ho fatto la superficie inizialmente perché ha interpretato quell'arco con il segmento questo qui, guardate. Questa è una cosa interessante da farvi vedere perché potrebbe generare degli errori. Vedete che qui non c'è un vincolo di tangenza. Vedete? Vi ricordate quando inizialmente abbiamo creato questo segmento arco segmento. Io ho sbagliato e non ho creato un vincolo di tangenza tra questo arco e questo segmento. Quindi qui, di fatti, c'è uno spigolo. Ok? Vedete? Questo qui è uno spigolo vivo. Quindi nel momento in cui lui mi ha creato qui la superficie aveva aggiunto giustamente uno spigolo. Non è niente di preoccupante, insomma niente di difficile da gestire. Andate, selezionate questo spigolo, andate qui in modify e increase vi toglie lo spigolo. Va bene? Molto banalmente. Perfetto. Quindi diciamo adesso una serie invece di più. Diamo finish form. L'inspessimento funziona bene. Il raccordo per qualche motivo sarebbe perso. Lo andiamo a rifare. ok. Andiamo a dare un valore sempre più o meno che ci piace. Ok. E continuiamo a fare il nostro lavoro, quello che stavamo facendo. Quindi, dicevo, quello che voglio fare è creare una struttura di supporto che, seguendo questa traccia, segua perfettamente il profilo di questa di questa serie. Beh, sapete che ci sono tantissimi modi per fare questa cosa. Uno potrebbe essere quello di proiettare la circonferenza su questa superficie e va sicuramente benissimo. Un altro è quello di creare un taglio su questa superficie o creare addirittura un trim della superficie questa qui della serie. Esistono veramente infiniti modi. Però io vi faccio vedere un trucco molto rapido per ottenere questo oggetto che vogliamo che veramente vi risolve un bel po' di tempo. Usiamo l'estrusione. Ok? Diciamo che vogliamo estrudere il nostro oggetto a partire da questo oggetto qui. Ok? Quindi andate a selezionare Start Object Ok? E poi date come object selezionate questa superficie. Dopodiché se diamo adesso una distanza negativa vedete? abbiamo creato esattamente quello che ci serve. Giusto? Magari 3 un po' troppo mettiamo un 2 insomma. In pratica qual è il criterio? Noi siamo partiti da una faccia proiettata ok? Da una faccia che è questa qui della sedia proiettata a partire da queste ellisse quindi abbiamo usato come Start questo oggetto ed estrudendo ovviamente al contrario ovviamente stiamo andando verso l'esterno dell'oggetto. state attenti però che siccome Fusion riconosce che questi due oggetti sono attaccati vi da predefinito l'operazione join noi vogliamo invece un impade ok? Andiamo a vedere in sezione effettivamente quello che è successo vedete che i due oggetti vedete sono due oggetti separati sono perfettamente combacianti ok? Perfetto quindi abbiamo ottenuto diciamo il nostro primo oggetto che vogliamo adesso volevo creare dei piedi un po' carini un po' simpatici che sono fatti ovviamente ne creerò uno l'altro lo otterrò per simmetria possiamo sfruttare lo stesso disegno questo qui questi piedi mi faceva piacere insomma che avessero come piano d'appoggio sempre degli ellissi magari facciamo il piede di dietro un po' più largo il piede davanti un po' meno largo e vado a creare un arco di spline che mi collega i due piedi passando ovviamente vicino alla sedia in modo tale che io poi dopo possa intersegarlo con questo oggetto qui naturalmente l'arco di spline lo vado a creare su un altro piano beh il piano che piano sarà? sarà un piano che passa sicuramente per questi due punti ok? e che mi va a intersecare in qualche posizione questa sedia quindi che cosa faccio? vado innanzitutto a crearmi guardate bene l'asse che passa per i due punti che sono i certi di questi due ellissi ok? dopodiché sfruttando quest'asse mi vado a costruire il piano angolato che passa anche per la sedia questo qui non si può allargare lo allarghiamo dopo va bene comunque possiamo angolarlo vedete e possiamo decidere vedete l'angolazione con la quale poi questa spline si alzerà dal piano di base ok? diciamo 80 va bene mi sto rendendo conto che forse questa sedia è un po' bassa io siccome sono basso forse per me va bene vabbè vedete qui non so se lo sapete già però tutte le entità di tipo costruzione se avvicinate il mouse al bordo vi si colora di azzurro e potete trascinarlo così vedete bene effettivamente questo piano come interseca la base forse vedete mi rendo conto che stiamo un po' troppo all'estremità allora ritorno un attimo qui modifico l'angolo ok diciamo che così forse mi piace di più perfetto ok adesso su questo piano che abbiamo appena intercettato andiamo a tracciare l'arco di spline come lo tracciamo? beh in realtà ci serve oltre ai centri delle ellissi che ovviamente già abbiamo ci serve come riferimento anche l'intersezione con questo pezzo quindi la prima cosa io direi di fare è andare a creare l'intersezione di questo oggetto come body magari lo facciamo come linea di costruzione in modo tale che vedete adesso su quel piano io so dove deve passare questa spline per intersecare ok questo pezzo qui va bene? spero sia chiaro questo discorso quindi andiamo a creare la spline ovviamente vedete non riesco ad agganciarmi perché qui ho l'opzione 3D disattivata non vi consiglio di attivare l'opzione 3D piuttosto vi consiglio di andare a proiettare il centro di queste due ellissi su questo piano in modo tale che vedete adesso togliamo un po' le costruzioni vedete adesso ho i punti di partenza e di fine e il punto dove deve passare perfetto siamo pronti a creare la spline quindi la facciamo in questo modo naturalmente non è una linea di costruzione bensì è una linea piena ok l'ho fatta in modo molto molto semplice perfetto adesso quindi abbiamo le sezioni iniziali e finali e il percorso che questa spline scusatemi che questa superficie deve fare per generare il solido quindi andiamo a creare un loft selezionando come primo profilo togliamo il rail che si è preso da solo come profilo il primo la prima ellisse scusate abbiamo la selezionata il profilo come secondo profilo la seconda ellisse e come centerline questo che abbiamo appena creato bene ci accorgiamo subito che c'è bisogno di un terzo profilo vedete qui perché non va bene che qui chiude in questo modo ok quindi abbiamo bisogno di poter controllare la sezione di questo loft anche nella parte mediana e come lo facciamo in questo caso beh andiamo a creare un piano lungo il percorso e ci andiamo ad attaccare esattamente per esempio in un punto preciso che vedete questo qui che abbiamo creato prima quando abbiamo fatto la spline è un piano vedete di snap proprio se vi ci fate caso anche se il valore non è preciso però il mouse si attacca proprio su quel punto quindi diamo ok adesso su questo piano andiamo a creare quella che possa essere la sezione ok in questo punto qui anche in questo caso ci farà molto comodo disattiva un'ottima gli scacci precedenti ci farà molto comodo sapere come è fatto l'oggetto che stiamo intersecando quindi di nuovo create project intersect come linea di costruzione questo oggetto ok così abbiamo un'idea della nostra sezione come vogliamo che sia ok perfetto io per non deludere nessuno farei di nuovo un'ellisse questa volta magari la faccio inclinata è diretta un po' verso nella direzione insomma di questo piano che abbiamo intersecato vedete quindi adesso abbiamo che cosa abbiamo creato profilo iniziale profilo finale profilo intermedio più percorso che il loft deve seguire perfetto adesso questo piede lo possiamo creare in modo molto semplice con un loft quindi andiamo a selezionare profilo iniziale profilo intermedio profilo finale e percorso della centerline ed ecco fatto adesso abbiamo vedete un piede che può sicuramente andare bene vi faccio vedere una cosa che potrebbe essere interessante soprattutto per questo tipo di geometria vedete che i due piedi si staccano da terra in modo obliquo perché naturalmente il piano della spline era obliquo potremmo cercare di aggiustare la spline e renderla perpendicolare al piano d'appoggio però abbiamo la possibilità qui per esempio vi faccio vedere sul primo profilo abbiamo la possibilità di dire di staccarsi dal piano di partenza del profilo seguendo la direzione del profilo sapete che ogni profilo appartenendo ovviamente ad un piano ha una sua direzione che è la normale al piano vedete che in questo modo dando gli direction appaiono pure una serie di simbolini questo qui che vi permette di decidere quanto intenso deve essere questo take off lo chiamano in inglese quindi questo questo stacco del decollo dal piano di partenza in italiano mi sembra che abbiano tradotto in un modo molto più complicato da capire però è chiaro insomma l'effetto che ha quest'angolo qui invece ci permette di decidere quanto è inclinato e quanto cioè è il taper angle che abbiamo anche nell'estrusione quindi è la stessa ha lo stesso effetto in questo caso non ci interessa insomma oppure sì magari qualcuno potrebbe essere interessato a fare vedete una forma un po' più panciuta ma a me piaceva di più così ok quindi gli do un take off non lo so magari di due ah piccola parentesi questo numeretto che vedete qui 17,261 esattamente il take off weight moltiplicato per 10 non mi chiedete perché non ho idea non ha nessun riferimento metrico quindi non si riferisce ad una dimensione fisica per qualche motivo questo qui è scritto in centesimi questo qui no vabbè adesso diamo due mi piacerebbe fare la stessa operazione anche con l'altro piede quindi diamo direction take off weight 2 vedete è chiaro che il piede in questo modo scarica le forze in modo più ortogonali verso il pavimento ok perfetto ecco magari la forma finale non tanto ci garba perché ci siamo resi conto che magari qui è troppo spesso ci vuole troppo materiale insomma per una serie di motivi la cosa simpatica di lavorare con degli sketch che non sono 3D che sono tutti poggiati sul piano e che possiamo intervenire direttamente vedete senza entrare nello sketch e vediamo come si aggiorna la forma in tempo reale vedete quindi vi consiglio di fare degli sketch 2D per questo motivo soprattutto vedete in modo molto molto semplice possiamo questo qui aggiustarlo vedete veramente molto molto banale perfetto fatto il piede l'altro come abbiamo detto lo otteniamo per simmetria speriamo che sia stabile allora l'altro piede lo otteniamo per simmetria quindi create mirror body selezioniamo il body il piano di simmetria è esattamente questo e a questo punto esattiamo tutto quello che non ci occorre possiamo andare a saldare insieme questi tre pezzi ok come se fossero un unico pezzo di metallo saldato beh se fossero saldati ovviamente qui dovrebbe apparire un certo angolo che è quello dovuto al TIG la saldatura tipo TIG io ce lo metto perché mi dà un aspetto più realistico vedete ovviamente allo stesso modo lo mettiamo anche qui dopodiché vado ad agire un po' con lo smusso perché ovviamente questo se fosse di metallo sarebbe troppo tagliente quindi diamo un minimo di smusso ok qui magari i piedi non lo so gli possiamo dare un piccolo raccordino per renderli un po' più simpatici un po' più morbidi ok e che cosa manca sicuramente allo spienale anche qui aggiungerei un pochettino di smusso proprio perché potrebbe far male a chi si siede anzi non d'accordo questo è va bene sì è una serie per nani mi rendo conto beh potremmo provare a spostare a tornare qui quando abbiamo spostato il nostro oggetto e spostarlo più su vediamo se non perdiamo tutti gli altri riferimenti parametrici vediamo un po' è andata bene ok perfetto ovviamente manca giusto quel dettaglio mi piace sempre dare a nostri oggetti che è un po' di realismo quindi andiamo a definire qualche materiale vediamo ovviamente una serie di legno la prima che mi appare questa qui dove c'è scritto 3D magari non ce l'avete già disponibile direttamente basta cliccare su questa freccettina per scaricarvi se non ce l'avete questi 3D sono particolarmente carini perché creano degli effetti proprio di profondità dati dalla porosità del legno quindi è molto simpatico dopodiché magari la parte metallica non lo so facciamo la nera non lo so questo qua quoting mi piace dai ed ecco la nostra sedia ok vedete che carini pure riflessi nel legno fatto stile 3D ok vedete quindi abbiamo creato questo supporto che si sposa benissimo con la sedia naturalmente poi per fissarlo bisognerebbe creare dei fori per le viti eccetera eccetera però quello siete sicuramente molto bravi già a farlo e quindi mi fermo qui quindi avete visto come è possibile creare a partire da una superficie spline con pochi punti di controllo perché tutto sommato non erano pochi una superficie che sembra molto complessa da pensare da realizzare invece avete visto che in questo modo si realizza veramente in modo molto rapido quindi le t-spline possono essere utilizzate per modellare qualcosa di geometrico e rigido l'importante è che abbiate pochi punti di controllo da gestire perché più punti di controllo avete ovviamente più diventa complicato poi creare delle relazioni geometriche tra le varie parti beh io spero che questo video vi sia piaciuto e ovviamente se avete piacere iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche quando pubblicherò i prossimi contenuti alla prossima